E adesso facciamo un giretto tra suoni e colori, espressioni e forme di una cittadina in amore. Insomma, andiamo a dare una sbirciatina nel dietro le quinte del Giffoni Experience. L'ombelico del mondo del cinema per ragazzi è proprio qui a Giffoni. L'isola che c'è e tutto intorno un mare d'allegria. Al Giffoni Experience abbiamo esplorato quest'isola in lungo e in largo, a partire dalla mitica cittadella. Un'bienico del mondo del mondo del cinema per ragazzi è questo. Un'bienico del mondo del mondo del mondo del mondo del mondo del mondo. 14 le giornate del festival, 6 le categorie di giurati provenienti da ben 43 paesi diversi, più di 200 tra fotografi e giornalisti accreditati e soprattutto un mare di ragazzi pronti ad applaudire VIP e film in concorso. Ma ogni luogo del Giphone Experience ci è sembrato magico, la location ideale dove girare la storia più bella del cinema, giunta alla sua quarantesima edizione. Grazie per la visione